Questa è la quarta conferenza sull'iniziazione alla vita spirituale. Per questa quarta conferenza abbiamo il professore, il padre Emilio Gonzalez-Margania, che è il professore qui nell'Istituto di Spiritualità. Lui ci parlerà oggi piuttosto dell'accompagnatore della vita spirituale, come possiamo essere accompagnati, aiutati da qualcuno per l'iniziazione alla vita spirituale. Lascio la parola al padre Margania. Sono molto contento che è con noi questa sera e gli do la parola. Io ringrazio padre Rossard per l'onore dell'invito e vi invito a metterci nelle mani di Dio per fare tutto solo per la sua maggiore gloria. Gloria al padre e al figlio e allo Spirito Santo. Il punto di partenza di questo mio contributo è questo, due domande che forse ci aiuteranno a capire il senso di questa condivisione. Posso iniziare da solo? Se si tratta dell'iniziazione alla vita spirituale, questa potrebbe essere una domanda giusta. Ha senso avere un direttore spirituale? Perché oggi sembra che in questa società, che è stata così chiamata la società liquida, tutto è possibile. Già il grande teologo Ratzinger diceva che eravamo caduti in una situazione di relativizzazione di tutto, addirittura del peccato. Sembra che se non abbiamo già perso il senso del peccato, stiamo in una situazione di relativizzazione di tutto, valori, credenze. E quindi questa domanda potrebbe essere un po' di fastidio per alcuni. Ha senso un direttore spirituale? Di questo direttore spirituale, che anche è stato un termine molto contestato dopo il Concilio Vaticano II, perché si diceva che potrebbe assomigliare una certa manipolazione. Uno che dirige, uno che indica il cammino, ma possiamo fare un'analisi della storia dell'espiritualità e vediamo che già parlano della figura di una persona che accompagna Sant'Antonio Abate, San Basilio con le regole, il grande San Benedetto. Tutti questi nominano così una persona con questo termine, padre spirituale. Bernardo di Chiaravale, altri grandi della direzione spirituale, che purtroppo non avremo tempo di dire una parola su di loro, Francesco di Sales, più ultimamente Pio di Pietrelcina. Ma è stato nel secolo XVI quando tre mistici hanno sviluppato questo termine dell'accompagnamento e hanno fatto riferimento a una persona che accompagna. Certamente la grande Teresa di Gesù, con il suo senso di organizzazione, con il suo senso della fedeltà al Vangelo, San Juan della Cruz, con un linguaggio bellissimo, nei suoi scritti, soprattutto in quelle della notte oscura, ci lascia tanti, tanti contributi per poter capire che cosa è questo della direzione spirituale. E' Ignazio di Loyola. Di questo Ignazio di Loyola io parlerò di più perché è quello che conosco di più. Ignazio di Loyola. Che cosa diceva Ignazio a proposito della direzione spirituale? Una cosa che dobbiamo dire subito è che lui come uomo di Chiesa, come fondatore, come compagno di Gesù, ha lasciato alcuni contributi come eredità alla Chiesa. Ma è stato soprattutto questo il libro degli esercizi spirituali dove lui in qualche senso chiama l'accompagnamento spirituale. è un libro scritto con tanti scopi, ma io direi tre. Ordinare la vita, riconoscere tutte le affezioni disordinate e tutto questo per fare solo la volontà di Dio. In questo libro Ignazio sviluppa un argomento che possiamo dire sarebbe il contributo suo per lo sviluppo della direzione spirituale. Sono venti annotazioni che sono state scritte nel suo periodo di maturità, diciamo, quando aveva già studiato filosofia, quando aveva cominciato a studiare teologia alla più importante università del tempo, l'Università di Parigi, aveva avuto l'esperienza dei collegi maggiori, di altre università, soprattutto al Cala de Nares, poi Salamanca, lui scoprì che c'erano una specie di indicazioni pratiche per le persone che accompagnavano gli studenti nella loro dedizione, nel loro compito di studiare. E quindi ha deciso di mettere questi venti numeri all'inizio del libretto degli esercizi e lì ci sono delle indicazioni soprattutto per la persona che dà modo e ordine, diceva lui. Ignazio non usa mai il termine direttore spirituale, usa soltanto questi due, chi dà modo e ordine, chi riceve o chi fa gli esercizi spirituali. E quindi indica un periodo, un processo che io chiamo una scuola, un laboratorio di conversione, dove la persona si mette in un processo di ricerca della volontà di Dio, ma non parla, ripeto, di una persona che dirige, una persona che dà modo e ordine. Come si devono fare gli esercizi, quando si devono fare questi esercizi, e quindi in questo lui è molto, molto, molto esigente. a grado tale che Ignazio diceva, ha detto tante volte, che se un gesuita non era capace di dare i veri esercizi, era meglio di non darli. E quindi faceva un esame molto accurato delle persone che volevano fare questa esperienza, perché lui diceva che era molto importante avere desiderio di Dio. E qui entra già l'argomento che vorrei sviluppare, perché la persona che dà modo e ordine è vassilare nell'insieme della pratica, del libro, degli esercizi spirituali. Questo argomento Ignazio lo sviluppa in tre annotazioni. La numero 18, dove lui dice alcuni non hanno le capacità né l'età, alcune volte pensavano che faceva riferimento ai giovani, non è così, faceva riferimento alle persone più anziane che non avevano la capacità o che non volevano fare una riforma di vita. E quindi lui diceva a queste persone che forse solo desiderano vivere un momento di conversione si devono dare gli esercizi della prima settimana, arrivare a un certo contentamento dell'anima o forse prepararsi per una confessione ben fatta. Altre persone sono capaci, che hanno fame di Dio, vogliono vivere il processo completo, ma sono molto impegnati, non hanno tempo. E quindi ha fatto un adattamento e quindi dice, con la notazione numero 19, lui dice che si devono, si possono fare esercizi spirituali nella vita quotidiana. In questi due casi sono gli esercizi che si adattano alle persone. Invece, la notazione numero 20 dice che è la persona che si deve adattare agli esercizi, perché lui chiama l'esperienza di fare questo processo, di vivere questo processo esattamente e in ritiro. in questi tre casi che sono esercizi ma con differente modalità, lui dice dobbiamo chiarire qual è il compito, qual è il ruolo, quali sono le funzioni della persona che dà modo ed ordine. Ed è per questo che io vorrei offrirvi questo che a me mi dà diciamo il coraggio per dire quello che sto per dire. Pedro Arrupe, allora preposito generale della compagnia di Gesù, quando la compagnia viveva una certa crisi che quando non si davano, non si offrivano tanti esercizi spirituali, lui diceva se coloro che vengono da noi per fare gli esercizi non sono preparati per fare l'esperienza come si deve è preferibile tentare di formarli con altri mezzi e processi conferenze, gruppi di studio, preghiera comunitaria, eccetera ma non si devono chiamare esercizi ignaziani le attività i requisiti richiesti per essi e le attività mi sono perso ecco del resto l'esperienza ci mostra e potrei portare moltissimi esempi che anche oggi benché a volte sembri che converrebbe a morbidire o ridurre gli esercizi quando questi sono fatti con tutta la serietà necessaria gli esercitanti rimangono molto contenti non cediamo pertanto facilmente al contrario prima cerchiamo di vedere piuttosto in quelle difficoltà la chiamata a rinnovare questa forma di apostolato ritornando all'idea di Sant'Ignasio con tutto ciò che porta con sé gli esercizi sono un tesoro che non possiamo falsificare né perdere perché comincio con questo perché ultimamente ci sono tante esperienze che non sono esercizi veri terapie gruppi di sviluppo umano che sono bellissime che fanno tanto bene ma non sono esercizi e quindi per chiamare esercizi deve avere una persona che accompagna e una persona che è guidata che è accompagnata ed è per questo che entriamo già direttamente nell'argomento chi dà modo ed ordine io ho chiamato questo intervento ho copiato una frase di un grande autore dell'espiritualità ignaziana che dice la persona che accompagna deve essere attento a vivere questo equilibrio tra discreta lontananza e una sacra intimità perché perché il direttore chi dà modo ed ordine fino d'ora in poi chiamerò direttore spirituale deve essere attento a non intromettersi nella vita della persona accompagnata deve aiutarla sì deve accompagnarla ma deve essere rispettoso come vedremo e quindi entriamo a capire chi è la persona che accompagna il vero direttore spirituale è Gesù l'attore fondamentale di un processo di accompagnamento è lo spirito santo di Dio non è la persona che accompagna a volte siamo caduti in cercare il guru la persona famosa la persona che dà una conferenza ben fatta non è lui il centro il vero accompagnatore il vero direttore è Gesù e certamente lo spirito di Dio la seconda persona che cerca la volontà di Dio che inizia un processo di crescita è la persona guidata e il direttore spirituale è un semplice strumento che cosa è questo della direzione spirituale la relazione di aiuto può essere di questi tipi una relazione oggettiva quando la persona che accompagna non considera la persona come una persona in sé la considera come un numero una matricola nemmeno conosce il nome quasi come una forma di catalogazione e non mi interessa a volte è il direttore spirituale che svolge questo ministero quasi come obbligo a volte nei seminari purtroppo siamo caduti in questo i seminaristi come obbligo seguono la direzione spirituale e c'è un direttore spirituale che accetta questo compito ma non c'è nessun rapporto personale la relazione interpersonale è quella che si dà fra due persone che si vogliono bene la persona che accompagna si mette nei panni della persona accompagnata cerca di capire i suoi sentimenti i suoi valori chi è questa persona la cultura di provenienza l'età la situazione è religiosa è sacerdote diocesano è religioso a quale congregazione appartiene è una ragazza che forse sta cercando di sposare il fidanzato è una madre che soffre che la sua bambina ha cancro chi è questa persona c'è un rapporto interpersonale un rapporto di amicizia dove questo rapporto interpersonale diventa una vera relazione di rispetto di vicinanza di empatia di accettazione incondizionata amici nel senso vero non sto parlando di una persona che sia l'amicone e l'amico l'amica e arriviamo a l'ultima a un ultimo tipo di relazione che è la relazione di paternità in Cristo l'amicizia in Cristo il padre spirituale come dicevo la relazione di paternità appare già nei primi monaci quando loro parlavano chiamavano il padre spirituale quando andavano da lui a chiedere qualche consiglio Sant'Antonio Abate è il più importante avevano perso il senso del mondo e chiedevano un consiglio e lo chiamavano padre spirituale così Basilio così Bernardo ma viene un problema Matteo 23 ci dice non chiamate nessuno padre sulla terra già Don Fabrizio Pieri aveva detto qualche cosa l'ultima due settimane fa ma qui è San Paolo che risolve il problema perché in questa lettera agli Efessini parla di questa paternità dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome Paolo non ha nessuna situazione non 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 dubita in chiamarsi padre spirituale perché come vediamo nella lettera ai Galati parla si rivolge ai Galati come i suoi figlioli io di nuovo vi partorisco nel dolore finché non sia formato il Cristo in voi e poi con questa situazione con questa convinzione della sua paternità si rivolge al suo caro popolo di Corinzio sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo come vedete è Paolo che dice io vi ho generato parla di una paternità e quindi non dubita in dire questo il padre spirituale agisce solo in virtù della partecipazione alla paternità divina non è lui che è il padre lui agisce perché ha ricevuto un compito una missione del padre suo e quindi svolge questa missione come padre e quindi l'autorità di Paolo non gli appartiene è stata è un'autorità che è stata concessa da Dio qual è il suo compito Paolo ci parla nella lettera agli Efesini e dice in lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio del Signore in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito e aggiunge poi a Timoteo Timoteo infatti è il vero figlio nella fede prima lettera a Timoteo 1-2 qui attraverso le lettere mandategli Paolo seguita dare consigli e incoraggiamenti e quindi di nuovo ai Corinzi esplicita questa situazione vi esorto dunque fatevi miei imitatori per questo appunto vi ho mandato Timoteo mio figlio diletto e fedele nel Signore Paolo stabilisce quali sono i compiti quali sono le caratteristiche di questa relazione di paternità il padre spirituale è colui che insegna colui che accompagna è il maestro spirituale ma qui mette una differenza non è così come il rabbi ebreo o il rabbi evangelico perché esercita una funzione di insegnamento solo il padre spirituale incoraggia e porta per così dire i suoi figli verso la pienezza della vita cristiana appare qui un dato che mi sembra importante tante persone chiedono l'aiuto dell'accompagnamento spirituale della direzione spirituale perché vivono un momento di crisi non sono in grado di gestire un momento di falimento hanno una morte in famiglia alcuni che stanno dubitando di lasciare il ministero sacerdotale qualche suora che non vuole fare i voti perpetui crisi ma tante persone vengono perché vogliono approfondire il suo rapporto con il Signore e quindi qui secondo Paolo la persona che accompagna la persona che indica il cammino potrebbe essere di guida per accompagnare le persone a questa pienezza di vita il padre spirituale diventa punto di riferimento dall'inizio da cui l'importanza dell'accompagnamento dall'inizio della vita spirituale nei momenti di crisi nei momenti di gioia nei momenti di difficoltà o nei momenti di una certezza che è questa la volontà di Dio e quindi quando si stabilisce una vera relazione di paternità spirituale il padre spirituale la madre spirituale che adesso è possibile dire così diventano punto di riferimento privilegiato ma non non come come un rapporto di dipendenza lo dirò subito dopo ma come un punto di chiarimento la domanda che sta a cuore è questa la volontà di Dio è questo che io devo fare è questo che tu vuoi da me e quindi si va all'accompagnatore per chiarire questa situazione da parte sua il padre spirituale si propone allo stesso tempo l'imitazione la sequela di Cristo perché voi lo sapete bene è molto facile dire una cosa molto difficile e viverla e quindi se il padre spirituale si presenta come punto di riferimento è lui che si deve sforzare allo stesso tempo per imitare perseguire il Signore quindi come vedremo subito dopo appare qui una caratteristica la persona che accompagna la persona che mi accompagna nel cammino della pienezza mi deve dare una testimonianza credibile di vicinanza di una vita piena con il Signore diventa così la direzione spirituale una possibilità di vivere un vero rapporto di amicizia e di paternità e questo acquisisce il punto più importante nel dialogo il dialogo che adesso si chiama il colloquio spirituale il dialogo fra il padre spirituale la madre spirituale la persona guidata che favorisce questa compenetrazione questa amicizia questa condivisione con uno scopo comune arrivare a scoprire la volontà di Dio e tutto questo rapporto sarà in Cristo la direzione spirituale ripeto lo dirò sempre non è terapia psicologica la direzione spirituale non è una consultazione pedagogica la persona che accompagna deve avere chiara questa missione data dalla Chiesa una missione per accompagnare le persone alla pienezza in Cristo e qui si lavora allo stesso tempo la comunione con la Chiesa questo io lo dico come una testimonianza personale io lo dico subito quando comincio il corso sulla direzione spirituale che nel mio caso dopo l'ordinazione sacerdotale la direzione spirituale è la cosa più bella che il Signore mi abbia mai regalato come prete non è facile ma se si arriva a questo punto che non sono io che parla ma sto cercando nonostante le mie debolezze nonostante le mie fragilità di presentare Cristo le cose vanno bene e quindi chi è il direttore spirituale l'ho detto il Signore Gesù ma il Signore Gesù usa mediatori se andiamo al Vangelo possiamo vedere che il passaggio della Samaritana presenta un momento bellissimo dove Gesù svolge un colloquio di direzione spirituale per accompagnare questa donna alla ricerca della propria verità saccheo è un altro dove la presenza della persona che accompagna che a volte deve indicare le cose che non vanno bene fa che la conversione di quell'uomo sia veramente conversione i discepoli di Emmaus che camminano senza speranza che hanno vissuto una situazione veramente di delusione di fallimento il Signore si avvicina parla li ascolta e poi si scopre nell'Eucarestia direzione spirituale quindi mediatori la persona che accetta lo svolgimento di questo ministero deve avere qualche qualità e quindi quali sono i compiti le qualità e le funzioni del padre spirituale per vocazione è un educatore di alto livello quindi un direttore spirituale non si deve improvvisare un direttore spirituale ha questo compito perché lavora nell'accompagnamento delle persone verso la pienezza in Cristo Gesù per fare la volontà del padre è uno strumento l'ho detto già sì uno strumento semplice ma deve avere delle competenze deve avere delle conoscenze e certamente deve avere questa vocazione se io accetto il ministero della direzione spirituale come obbligo non farò proprio niente posso distruggere le persone e quindi vocazione è un carisma che alcuni hanno o alcuni chiedono di avere appare come modello tipico di una persona integrata o almeno che cerca di esserlo non è possibile trovare una persona perfetta perfetto solo Dio ma è una persona che almeno sa riconoscere dove stanno i punti deboli dove stanno le cose che deve migliorare e per cui a sua volta deve avere il proprio padre spirituale per poter capire i miei problemi e poi accompagnare le persone almeno una persona che sia in grado di dire ho bisogno di aiuto e quindi si presenta come una persona equilibrata deve conoscere i propri problemi e deve averli in qualche modo già vissuti e risolti possiamo immaginare se qualcuno viene da me e io ho un problema affettivo non risolto io comunico questa situazione alla persona che io accompagno se io ho un dubbio per quanto riguarda il magistero della chiesa lo posso comunicare e invece di formare la coscienza morale distruggo la coscienza morale delle persone che vengono da me capace di ascoltare a volte i preti le suore ci piace tanto parlare siamo esperti nelle conversazioni di parlare un bravo padre spirituale una madre spirituale una qualità importantissima è quella di saper ascoltare sviluppare approfondire questa capacità di ascoltare e poi stabilire rapporti interpersonali un compito importantissimo aiutare a discernere la volontà di Dio aiutare a discernere non è lui che deve prendere le decisioni non è lui che deve dare la propria opinione di una vita vissuta deve aiutare deve porsi accanto alla persona per aiutarla con le sue capacità con la propria esperienza a interpretare il linguaggio di Dio a volte c'è il pericolo di favorire una relazione ambigua se io non ho chiaro qual è il mio compito di accompagnare la persona dall'inizio della vita spirituale dall'approfondimento della vita spirituale io posso usare la direzione spirituale perché io ho bisogno di qualche cosa io mi sento da solo nessuno mi capisce vivo da solo e quindi cerco una persona per accompagnare ma non per aiutarla io voglio essere aiutato e quindi è molto importante questo che la persona che accompagna abbia questa chiarezza che le persone vengono per essere aiutate e non sono io che io mi devo io devo usare le persone per le mie situazioni deve saper vivere il mistero della propria vita con animo sereno è veramente interessante scoprire faccio riferimento ho avuto qualche opportunità di conoscere il mondo della formazione sacerdotale alla congregazione per il clero hanno questa consapevolezza di tanti preti giovani che lasciano il ministero sacerdotale non è il celivato la prima causa come si potrebbe pensare è la mancanza di una vita spirituale seria è la mancanza di un vero padre spirituale accanto perché perché a volte noi preti pensiamo che dopo l'ordinazione tutto è già risolto tutti i nostri problemi sono chiari tutti i nostri problemi sono già passati e non abbiamo un padre spirituale un padre spirituale deve entrare in questo mistero della vocazione che è un mistero e saper accompagnare le persone in questo processo della propria vocazione che non è chiara da qui la necessità di essere sempre accanto a loro promuovere nel fratello una fede personalizzata responsabile matura e dinamica se parlo di un giovane che vuole essere prete ma non conosce nemmeno il catechismo della chiesa cattolica se io parlo di una donna che è incaricata di un gruppo di pastorale giovanile ma lei stessa pensa di avortire se io parlo di una persona che collabora al consiglio economico della parrocchia ma non ha un senso veramente chiaro della lealtà alla chiesa quindi una fede personalizzata responsabile matura e dinamica perché perché tante volte sentiamo che specialmente i giovani non solo i giovani alcuni adulti dicono io ho fede in Cristo ma non nella chiesa nella chiesa non mi fido o di questo papà non mi fido il vero papa era giovani paolo secondo e quindi una fede personalizzata matura e dinamica ma soprattutto un uomo una donna di dio voi ricordate sicuramente quell'espressione del beato paolo sesto che diceva la gente di oggi non ha bisogno dei saggi ha bisogno di uomini di dio e questa espressione è stata ripresa dal grande santo non ancora benedetto sedicesimo quando ha fatto ha convocato quel anno sacerdotale abbiamo bisogno di uomini donne di dio non di tanta saggezza perché a volte abbiamo una testa così grande e un cuore così piccolo senza la capacità di amare senza la capacità di essere accanto alle persone che soffrono il direttore spirituale aiuta la persona a beneficio integrale di tutta la persona e qui certamente mi posso servire della psicologia come strumento abbiamo fatto tanti sbagli con l'assolutizzazione della psicologia o l'assolutizzazione della spiritualità integralità il padre spirituale deve essere in grado di percepire che qualche cosa non va con le persone che viene da me e inviare la persona allo specialista allo psicologo magari allo psichiatra al pedagogo a un professore specialista ma non decidere da solo a questo aiuta un direttore spirituale riflettere sul senso della vita sul modo di rapportarsi con gli altri in tante comunità religiose viviamo difficoltà interpersonali e quindi un padre spirituale a volte si sente una suora che viene perché ha problema con la superiore un seminarista che ha paura dell'autorità doveri personali a vario livello oggi sembra che parlare di ascesi di disciplina di sacrificio è passato di moda e quindi si deve parlare di questo maniera di gestire i propri impulsi e stati d'animo lo dicevo già incapacità a volte di gestire i falimenti incapacità della solitudine del silenzio sulle motivazioni dell'agire quotidiano il tutto in rapporto al fine ultimo con genuinità il direttore spirituale deve essere genuino a volte c'è il pericolo di essere popolare o dire quello che le persone vogliono sentire ma il direttore spirituale deve dire la verità non la propria la verità di Dio e la verità della Chiesa e quindi genuino dire le cose così come sono questo si chiama peccato questo si chiama affezione disordinata questo si chiama forse una patologia e quindi abbiamo bisogno de lo specialista deve accettare la persona senza porre condizioni le persone che vengono all'aiuto spirituale non sempre sono facili e vengono con tantissimi problemi e quindi una grande sfida è accettarli così come sono la loro cultura la loro debolezza con le loro difficoltà con un carattere che forse a volte mi fa soffrire che ripetono le cose che dimenticano quello che le conviene quindi accettare senza porre condizioni con empatia entrare gradatamente nel suo mondo la persona che si sentirà ascoltata accolta amata si sentirà bene e quindi inizierà un processo di vero di vera crescita spirituale quasi per finire compiti quali sono i compiti di un direttore spirituale promuovere il bene umano l'ho detto già nutrire un sincero atteggiamento di fiducia la direzione spirituale non è un sacramento ma come se lo fosse quello che la persona ascolta nell'accompagnamento è sacro e non si deve dire niente di quello che noi abbiamo sentito nella direzione spirituale siamo obbligati al sigilo se io per uno sbaglio per una leggerezza dico qualche cosa della persona e la persona viene a sapere questo perde la fiducia in me e forse non troverà non andrà mai più a chiedere l'aiuto del direttore spirituale stimolare più che dirigere offrire un aiuto che possa facilitare il cammino dicevo già non è quello che ordina non è quello che indica il cammino è quello che accompagna offrire dei suggerimenti a volte offrire dei compiti da fare perché la persona possa veramente camminare alcuni segni di incongruenza o inadeguatezza imporre o proibire c'erano alcuni padri spirituali che dicevano tu devi fare questo lo devi fare come lo dico io lo devi fare come lo dico io quando lo dico io imporre o proibire questo è molto facile esortare non si devono dare delle omelie la persona viene per esporre la vita i problemi i suoi desideri e quindi non viene per essere esortata consigliare e persuadere spiegare e interpretare e nemmeno risolvere i problemi pericoli attenzione polarizzata al passato a volte le persone si innamorano delle catene che non le permettono di vivere liberi il direttore spirituale dovrebbe favorire uno sguardo di futuro di speranza di misericordia come tante volte lo abbiamo ascoltato questo anno mentalità intellettualista possiamo cadere nel condividere o si condividere una idea una teoria una lettura che ho letto ultimamente e quindi io uso questa conoscenza questa sapienza con la persona che viene da me ma non è il caso non viene a sentire una conferenza non viene a sentire un mio parere viene ad essere accompagnata a cercare il Signore o cercare qualche interpretazione sia psicologica che pedagogica eccetera questo con questo vorrei finire le qualità ho detto qualche parola dei compiti qualità come in linea di massima potrebbe essere la persona che da modo ed ordine come conservare questa discreta lontananza e questa arrivare a questa sacra intimità di cui parlavo innamorato di Cristo è una qualità che quando uno ha avuto la grazia di avere grandi direttori spirituali uno non si dimentica di questo perché un bravo padre spirituale non parla da sé parla da Dio ci aiuta a metterci nelle mani di Dio ci consola ci incoraggia ci rimprovera nel nome di Dio ma non è una persona che parla solo a memoria è innamorato innamorata da Gesù Cristo perché è lui che mi accompagna che mi mette nel binario della volontà di Dio l'uomo la donna per gli altri un bravo padre spirituale dovrebbe accompagnare le persone ad imparare la generosità il servizio il perdono che non è facile l'accettazione delle persone addirittura di quelli che non mi vogliono bene uomo dona per gli altri uomo dona della Chiesa a volte questo tanti dicono no no un direttore spirituale deve soprattutto rispettare la coscienza se un direttore spirituale non parla di quello che la Chiesa ha stabilito non è un vero padre spirituale perché confonde divide e crea delle terribili difficoltà l'uomo la dona della parola saggi non vogliamo santi vogliamo diceva il viato Paolo VI e poi Benedetto XVI uomo dona della parola che non abbia paura di usare la parola di Dio perché nel colloquio a volte si dovrà dare un compito se la persona vive un momento di difficoltà essere in grado di scegliere un salmo un brano del Vangelo forse un libro dei proverbi che ne so io ecco la parola per tutti in una forma semplice uomo dona spirituale uomo dona che mette l'Eucarestia al centro della sua vita e qui l'iniziazione della vita spirituale l'Eucarestia è il momento dove io ricevo le forze per la vita l'Eucarestia è il momento dove io veramente mi sento nel cuore di Cristo per poter andare a svuotarmi di quello nel servizio nell'incomprensione nelle persecuzioni nelle calunnie nei problemi ma se io come padre spirituale come madre spirituale non ho al centro della mia vita l'Eucarestia di che cosa parlerò di calcio del clima a un campo vastissimo formazione e purificazione della coscienza morale istruzione della mente rafforzamento della volontà formazione degli affetti scelta retta dello stato di vita discernimento degli spiriti formazione alla docibilitas come la capacità di imparare e ad imparare nella vita e la formazione alla docilità funzioni che cosa fa? Ignazio di Loyola diceva che se la persona che dà modo e ordine vede che la persona non lavora non prega non esperimenta nessun movimento spirituale interno deve interrogare che cosa sta succedendo il direttore spirituale è la persona che mette lo specchio guardati in questo specchio ti vedo così ma guardati ti vedo confusa ti vedo delusa ti vedo amareggiato specchio è la persona che deve indicare guarda oggi ti vedo molto stanco mi sembra che non hai dormito bene mi sembra che non hai risolto ancora quel problema di cui mi avevi parlato ieri specchio la persona che si vede così rispecchiata comincia un processo di lavoro interiore funzione pedagogica ordine diceva Ignacio e quindi un padre spirituale deve dire alla persona oggi facciamo così ti vedo in un momento di crisi quindi dobbiamo vederci la settimana prossima invece di dedicare una mezz'oretta dedicheremo un'ora e mezza perché ti vedo in un momento di crisi per favore non devi prendere nessuna decisione in questo momento ma in questo momento ti prego di leggere questo brano del Vangelo di Giovanni funzione pedagogica dare dei compiti accompagnare incoraggiare a volte frenare a volte spingere come un pedagogo che ha del suo ritmo che ha della propria conoscenza funzione sapienziale molto collegato con quello che dicevo della parola di Dio la persona che viene da me non ha bisogno non ha voglia di sentire che bravo che sono io sapienziale parlare di Dio parlare della ricchezza della parola di Dio parlare della vita di un santo parlare della testimonianza e questo fine settimana sono stato in Albania nella beatificazione dei martiri del comunismo quando loro parlavano della loro testimonianza a una donna Maria Tucci l'hanno uccisa hanno messo tanti gatti che non hanno erano affamati i gatti durante tanti giorni che non avevano dato di mangiare a questi gatti a questa donna una poverina giona albanese l'hanno così accoltelata perché sanguinasi la mettono in un sacco con gatti affamati potete immaginare com'è rimasta questa Maria una volta che perché è stata viva era viva ha detto sono contenta perché sto morendo per la grazia di Dio io non penso di arrivare a tanto ma parlare di Dio non avere paura di parlare della santità a volte abbiamo vergogna di parlare di questo e un padre spirituale dovrebbe incoraggiare a camminare insieme a cercare Dio non le cose che passano la funzione sapienziale di una persona che innamorata da Dio non ha paura di incoraggiare alla pienezza della vita vera come un pastore tante persone si domandano perché Giovanni Paolo II ha avuto questa forza perché era un pastore perché non aveva paura di sporcarsi le mani con le sofferenze con i limiti con i peccati perché l'insistenza di questo povero Francesco che tanti non lo vogliono bene perché vuole tornare alla semplicità del Vangelo sapienziale del pastore che accompagna pontificale nel senso dell'insegnamento tante persone hanno bisogno di una parola di saggezza che cosa è la nostra fede tanti giovani che non conoscono il Signore ma una volta che lo conoscono si affidano si aggrappano a Lui perché c'è stato un uomo una donna che ha avuto il coraggio di presentare Gesù come modello come possibilità di essere vissuto non soltanto imparato vi dicevo fratelli e sorelle che per me dopo la celebrazione dell'Eucarestia il poter essere in grado di ascoltare le persone è stato un regalo bellissimo e io per questo che io ci tengo tanto a questo perché a mia volta io sopravvivo sono sopravvissuto nella compagnia di Gesù nella mia vocazione e amo la mia vocazione perché ho avuto bravi direttori spirituali che sono sempre che sono sempre che sono state sempre mamma mia che erano sempre state a mio canto mi emozione accanto a me e quindi avere un padre spirituale è veramente sentire che Dio non si dimentica di me e offrire la direzione spirituale è sentire e sperimentare che Dio è più grande che i miei peccati che le mie debolezze che le mie fragilità e questi peccati ripetuti e quindi chi dà modo ed ordine è soltanto per arrivare a questa discreta lontananza rispettando il mistero della persona rispettando il proprio cammino e una sacra intimità perché lì abita Dio il Signore grazie 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 a tutti